Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato, partiamo da qualcosa di molto superfluo, questa camicina è per Donna Tartt, questi occhialetti sono per Donna Tartt, lei che si veste molto spesso di camicine e occhialetti. Ma bando alle ciance, torniamo al libro. Libro che oggi lo tengo qui come effetto speciale da poveracci, perché non avendo il computer che mi permette di inserire immagini come mi piacerebbe, ma come poi non è così fondamentale, questo sta lì e mi fa un po' un effetto copertina così, effetti speciali da due soldi. Dio di Illusioni è il primo romanzo di Donna Tartt che lei pubblica a 29 anni nel 1992, dopodiché scrive soltanto due romanzi. Lei ha dichiarato che scriverà un libro ogni dieci anni e pare che ne dovrà fare cinque. È una cosa molto strana, una cosa che spesso mi ha fatto domandare se è giusto o se non è giusto. Tendenzialmente io sarei sempre più verso Bukowski, nel senso scrivi quando hai l'ispirazione, nel senso ma non lasciare il tuo pubblico orfano per così tanto tempo. Nel senso, non lo so, è un discorso molto complesso e fondamentalmente quando penso a Donna Tartt penso più a questo suo decidere che devono passare dieci anni tra un libro e l'altro che non alla scrittrice in sé. Allora, è come dire, ogni artista ha un po' la sua maniera. Cioè c'è il Woody Allen che ti fa un film all'anno con il sole, con la pioggia, con il vento, con la nebbia e c'è lei che ti fa un libro ogni dieci anni. Bisogna accettare le persone e gli artisti per quello che sono. Allora, come accettiamo Donna Tartt? Accettiamola subito leggendo un pezzettino che mi ero segnato per me stesso. Allora, i personaggi, i protagonisti sono degli studenti, in questo caso hanno finito di fare una lezione con il loro professore, il professor di greco e latino, sono in università. Alla fine di un dialogo dove hanno parlato con il professore si dicono questo. La morte è la madre della bellezza, disse Henry. E che cos'è la bellezza? Terrore. Bendetto, esclamò Julian, la bellezza è raramente dolce o consolatoria, quasi l'opposto. La vera bellezza è sempre un po' inquietante. Guardai Camilla, il suo volto risplendente al sole, e pensai a quel verso di Liliade, che amo tanto, su palla di Atena e i suoi terribili occhi sfavillanti. E se la bellezza è terrore, proseguì Julian, cos'è allora il desiderio? Riteniamo di avere molti desideri, ma di fatto ne abbiamo soltanto uno. Qual è? Vivere, rispose Camilla. Vivere per sempre, aggiunse Banni, col mento sulla palma della mano. La teiera cominciò a fischiare. Questo è un pochettino lo stile di Donna Tartt. Ecco, perché ho letto questo libro? L'ho letto perché casualmente mi è arrivata l'informazione che Donna Tartt frequentò la stessa università che era stata l'università di British Tonellis, e quindi l'università che fece da sfondo alle regole dell'attrazione è la stessa che fa da sfondo a questo qua. Però non ci potrebbero essere libri più diversi, perché mentre nelle regole dell'attrazione i personaggi fanno tutto tranne che studiare, appunto sarebbero studenti, ma non studiano una cippa di niente, qui invece sono molto studiosi, studiano il greco, il latino, addirittura anche lingue morte, anche lingue in disuso, e Donna Tartt per farci capire questi personaggi quanto sono immersi nello studio e fuori dal mondo, a un certo punto di dialogo così che avviene mi sembra durante una colazione, il protagonista, che è un californiano, quello diciamo meno fuori dal mondo rispetto agli altri, semplicemente gli dice, siamo negli anni 80, gli dice semplicemente sì, l'uomo è stato sulla luna nel 69, e loro sono sballoditi così, nooo, cioè proprio ci rimangono di sasso, quindi sono talmente immessi nel loro studio delle loro lingue greco-latino da non sapere, nemmeno non avere cognizione che l'uomo è stato sulla luna. Ecco, in ultima analisi, qual è l'evento scatenante di questo libro? Loro, questi studenti, fanno una rievocazione di un rito dionisiaco, cioè appunto cercano di rifarlo, provano varie volte, a un certo punto ci riescono e quando riescono a farlo, per una serie di concatenazioni di eventi, uccidono per sbaglio una persona. Quindi questa uccisione accidentale innesca tutta una serie di eventi che poi sono gli eventi del libro, quindi libro che unisce ambiente universitario, riflessioni sul greco, sul latino, un pochettino di thriller, suspense, mistero, personaggi ambigui, così. Personaggi caratterizzati tutti quanti molto bene. Per il mio gusto personale appunto 620 pagine, forse diciamo che ci sono un centinaio di pagine di troppo, nel senso quando un libro è così tanto lungo io mi dico mi dico Madonna Moshayal Dadi, che in romagnolo vuol dire ma cosa mi devi dire? Ecco, quindi poteva stare anche sulle 500 pagine, non è che ne avrebbe sofferto troppo, però nel senso lettura gradevole, piacevole, quando l'ho letto, verso la prima metà, ho anche pensato per aver scritto una roba del genere così giovane, Donna Tarte è un genio, arriva a pensare questo, alla fine ho detto vabbè, non un genio, però sicuramente un grande talento è altrimenti, ultima cosa, Donna Tarte mi illude, a me lettore mi illude della possibilità che possa nascere un amore tra il protagonista californiano e Camilla, una del gruppo di questi studenti, ma a un certo punto me lo scialacqua lì come se niente fosse e io questa cosa non gliela perdonerò mai, perché io come lettore sono sempre molto sensibile alle dinamiche dell'amore. Grazie e un prossimo video, ciao!